Allora, con l'autorizzazione posso metterlo su YouTube? Assolutamente sì Ragazzi, è la prima volta che mi capita un direttore d'orchestra e io, Edicaida, non ho resistito Direttamente dal taxi del Duca Il signor... Lei canta, io dico Lei canta, io dico Mi dia, mi dia, la bacchetta Se fischio vale uguale Va benissimo Uso lo strumento che c'è a disposizione Va da colpia Per l'altro Come sono andato? Mi sembrava la grande Applauso, applauso spontaneo Ci stanno più in giro dall'autobus Si stanno ammazzando Ma chi so? Si sono scappati Grazie direttore, è stato un piacere La metto su YouTube? Assolutamente E' una stupidaggine E' una stupidaggine E' una stupidaggine Perché non sa... Perché non sa... Senza cantare Ma se gioca nel posto Però suonare al Conservatorio di Santa Cecilia All'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Però apritemi Se io sono Però apritemi Non mi lasciate di fuori Grazie, grazie direttore Grazie a tutti